Sono una giornalista e voglio scrivere di voi, delle vostre vite. È la prima volta che mi capita di leggere interviste dove le domande sono meglio delle risposte. Questa è buona. Cuo a terra! Il dolore fisico si sopporta, ma l'incubo, no. Tu credi che io non uscirò vivo? Riesci a raccontarmi quello che è successo lì? Devo farlo. È stato leggendo i suoi libri che io ho deciso di studiare giornalismo. Allora se vede le letti male perché il giornalismo non l'ho mai studiato. Me l'ho fatto. L'intervista è finita. Io non mi muovo di qui. Se vuole mi porti via di peso. È di ferro lei. Anche il cuore è di ferro. L'unica cosa che gli interessa è arrivare prima degli altri. E l'ho fatto perché io non so vivere senza passione. Non so combattere senza passione. Per passione scrivo, per passione mi arrabbio, infelisco il litigo. Ma è perché amo disperatamente la vita. Sono felice di vederti. Nonostante tutto. Sì, nonostante tutto. l'ho fatto. Sì, nonostante tutto. Noostante tutto. Sì, nonostante tutto.